Francesco Corsinelli va di corsa e non solo nel senso metaforico del termine. Nel girone di andata, il 24enne laterale destro della Lucchese, è stato infatti uno dei fedelissimi della squadra di Guido Pagliuca, avendo giocato tutte le partite laddove necessario nel periodo dell'infortunio di Nannini, anche sulla fascia sinistra, che diciamo così, non è proprio la sua preferita. Grande gambe e dinamismo ne fanno uno stantuffo inesauribile che dovrebbe forse affinare le proprie capacità di inserimento sottoporta. Subito in gola la seconda giornata, nella sfortunata gara casalinga perduta poi 2-1 col Cesena, il turbo via Reggino non ha saputo ripetersi in termini di realizzazioni, pur sfornando ottime prove. Rinviata la gara con Limolese, si può comunque tracciare con lui un bilancio del girone d'andata e proiettarsi già alla ripresa del campionato. Ha concluso il girone d'andata, secondo me abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata, magari iniziando con qualche difficoltà, per aver iniziato tardi anche il ritiro. Dopo ci siamo formati sia come gruppo che come squadra, grazie al ministro, allo staff, ai miei compagni che sono tutti bravi ragazzi e soprattutto uomini. Adesso ricarichiamo le pile perché ci aspetta un giorno di ritorno comunque sia combattivo, perché abbiamo visto anche che la classifica non è che sia corta. Comunque sia, potremmo fare meglio le ultime partite e magari vincere, però adesso ci imbocchiamo le maniche e più carichi che mai torneremo nel ritorno per dimostrare il nostro valore di squadra collettivo. Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno dato in queste partite, vi aspettiamo per il ritorno che sarete il nostro punto di forza e un uomo in più in campo. Un abbraccio e buon Natale a tutti. Già, curiosamente la prima gara del nuovo anno sarà proprio contro il Cesena suddetto. Sfida complicata, ma ci sarà tempo per pensarci da martedì 28 dicembre, quando la Lucchese riprenderà la preparazione. Intanto, chissà che, ringalluzzito da quanto seppe fare all'andata, Corsinelli non stia facendo un pensierino nel voler giocare un brutto scherzo ai quotati bianconeri romagnoli, che rischiano di perdere contatto dalle due scatenate emiliane Modena e Reggiana. E allora, parafrasando un grande successo di Roberto Vecchioni e sulla scia delle caratteristiche di Corsinelli, potremo concludere con un corri ragazzo, corri.